Amici di Rete 8, appassionati di calcio, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Pontevomano-Torrese, incontro valido per la seconda giornata di eccellenza. In questo momento le squadre fanno il loro ingresso in campo, prima la Torrese, ed ecco che giungono anche i calciatori del Pontevomano agli ordini del signore Michele Beltrano della sezione di Rimini. Ci sono tutte le condizioni per un assistere a una gara gradevole, Pontevomano che è sordito in questo campionato perdendo 3-0 sul campo della Virtus Cupello, mentre la Torrese ha centrato il successo la prima giornata battendo 2-1 il Casalbordino. C'è anche il pubblico delle grandi occasioni, quasi riempito, qui la tribuna, ed eccole le due squadre pronte a darsi battaglia. Un match che si preannuncia molto interessante, due capitani che si scambiano, i vari gagliardetti di Pietrantonio e Tini. Gli assistenti saranno Mohamed Rasul e Claudio Abazai della sezione dell'Aquila. Torrese in completo rosso, mentre il Pontevomano con il classico completo giallo e pantaloncini neri, calzettoni gialloneri. Ma gli manca pochissimo all'inizio del match. Pontevomano che attaccherà dalla destra alla sinistra le nostre teleschermi, mentre la Torrese attaccherà da sinistra verso destra le nostre teleschermi. Il Pontevomano che darà il via a questo match. Ricordiamo l'inizio complicato per la squadra di Casare, vuole subito riscattare il K.O. della prima giornata, mentre la Torrese vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Casalbordino. Ma è tutto pronto, manca pochissimo all'inizio del match. Gli ultimi ritocchi da parte del direttore di gara. Sembra essere tutto pronto per il calcio d'inizio. Ricordiamo che il Pontevomano che darà il via a questa partita, pubblico che prende posto, gli ultimi spettatori, dovrebbe essere davvero tutto pronto. sta per fischiare il signore Michele Beltrano. Ed ecco che comincia Pontevomano-Vastese, subito pallone gettato in avanti, termina fuori, rimessa laterale per la Torrese, con Bup. Cerca Santi Rocco, si lotta nella zona nevragica del campo, con la Torrese in possesso palla. Grubera palla il Pontevomano con un lancio lungo. Ancora un colpo di testa per Polisena. C'è subito un fischio da parte del direttore di gara. Si riprenderà dunque con un calcio di punizione in favore della Torrese, che manovra con Zec a sinistra. Lancio lungo a cercare Santi Rocco. C'è un grande anticipo di Monaco. Poi buona occasione per la Torrese con Festa, ma blocca senza problemi Farnese il suo mancino. Inizio piuttosto vivace da parte della squadra ospite. Ora riparte il Pontevomano. Sale palla al piede, c'è un lancio lungo dalla sinistra. Cercare Salvini che scambia con Polisena. Un momento in possesso palla con Porrini. Che cambia gioco. Fazio. C'è un cross in mezzo, attenzione. Blocca senza affanni, Camaioni. Ancora la Torrese in possesso palla. Perché comincia dal basso. Qui c'è un fallo. Proteste. Da parte del difensore. Si lamenta con l'arbitro di un contatto. È venuto a palla lontana. Contatto al volto. Grandi proteste. Da parte di Di Lallo. Si riprenderà con una punizione in favore della Torrese. C'è il lancio lungo. Sempre alla ricerca di Santi Rocco che lotta con Monaco. E qui c'è un altro scontro. E viene subito ammonito Santi Rocco. Il primo ammonito del match. Resta a terra Monaco colpito al volto. Necessarie le cure. C'è subito il primo giallo. Dopo pochi minuti c'è anche il primo ammonito della gara. Si rialza immediatamente Monaco. Per il colpo al voto subito dall'attaccante numero 9 della Torrese. il match è partito subito con una certa intensità da parte delle due squadre. Torremano che cerca subito di riscattare sconfitta della prima giornata. Esce dal campo a Monaco. Non dovrebbe esserci problemi per il suo ritorno in campo. Punizione in favore del Ponte Romano. Torrese che è in campo con un 4-4-2. Molto ordinato. Con Santi Rocco e Festa le due punte. Corremano che è a bordo campo. Viene battuto in questo momento il calcio di punizione. Prende Gentile. Ma il Ponte Romano recupera subito il pallone. Si lotta a centro campo. Serie di contrasti. Poggi parte con la corsia di destra. Ma il pallone per Santi Rocco è troppo lungo. E si riprenderà dunque con una rimessa laterale in favore del Ponte Romano. E batte la Cimini. Batte in questo momento Cimini. Lungo il lancio. A trovare Polisena. Si lotta. Poi di là lo chiude. Nicola Gentile. Lancio lungo. Ancora la ricerca delle due punte. Molto chiaro lo schema della Torrese in questi primi minuti. Cercando di sfruttare il 4-4-2. Ancora Gentile. Si lamenta il pubblico. E qui c'è un brutto fallo. C'è un brutto fallo da parte di Leonzi. Si scaldano gli animi. È partita molto combattuta. L'avevamo detto in precedenza. Le due squadre hanno cominciato veramente forte. Forse troppo. Visto che c'è già stato il primo ammonito. Restanti Rocco della Torrese. Sinamente il pubblico per un contatto precedentemente non fischiato. Adesso si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Torrese. Arbido che non vuole perdere il controllo del match. È battuta la punizione da Di Lallo. Lungo a sinistra ma è completamente sballato. Il suo lancio si riprenderà dunque con una rimessa laterale per il Pontevomano. Noi siamo giunti al quinto minuto di questo match. Sempre 0-0 tra Pontevomano e Torrese. Ancora contatto tra Salvini e Sec. Ancora rimessa laterale per il Pontevomano che guadagna metri. Con Fazio che batterà la rimessa laterale ancora. Cercare Polisena ancora. Anticipato Sec. Poi ennesima rimessa laterale per il Pontevomano che nel giro di 30 secondi ha guadagnato 50 metri. Ancora a salire Fazio. Questa rimessa laterale. Salgono anche le torri. In area Polisena, Leonzi e Salvini. Per il Pontevomano che resta con tre difensori a protezione della porta di Farnese. Viene battuta in questo momento la rimessa ancora Sec che anticipa Polisena. Poi non riesce a tenere il pallone in campo di Federico. Si riprenderà con l'ennesima rimessa laterale per il Pontevomano che sta cercando di dare continuità alla pressione. Ancora la battuta di Fazio. Di là lo svetta e poi riparte in qualche modo. Sino che recupera molto bene il pallone del Pontevomano. C'è un cross in mezzo dalla destra. Ancora di là lo spazio. E mette in calcio ad angolo. Buon momento. Perché il Pontevomano mentre rientra in campo. Pontevomano dopo il contrasto con Santi Rocco. Dove essere in buone condizioni. Il difensore di classe 2000. Pontevomano sempre in protezione offensiva. Questo avvio di match. Porrini viene stoppato. Cerca di ripartire in qualche modo la Torrese. Ma c'è l'ottimo anticipo di testa di Pietro Antonio. Ancora grande lotta. E qui Monaco si vendica su Santi Rocco e viene ammonito. Secondo ammonito della partita. Si tratta di Monaco. Si tratta di Monaco. Non proprio messe due. Monaco si è vendicato del fallo subito a inizio match da parte di Santi Rocco. Quindi sono due gli ammoniti di questa partita. Non sono nemmeno passati dieci minuti. Si riprenderà con un calcio di punizione dalla tre quarti per la Torrese. Non ci sono ancora state occasioni degne di questo nome. Piuttosto crammezzato il gioco. Riprende ancora la Torrese con Di Federico. Poi sbaglia tutto secca regalando il pallone al Pontevomano. Si sta giocando molto sulla corsia di destra del Pontevomano. Che in questo momento batte la rimessa laterale con Porrini. Che cerca il lancio lungo. La ricerca di Polisena. Attenzione, retropassaggio un po' rischioso di Nicola. Ma blocca senza problemi Camaglioni. Che va da di Lallo. Avanza la palla al piede. Poi si appoggia. Grande finta di Di Federico. Bella azione in velocità della Torrese. Ma è ottimo. Il ripiegamento di Di Pietrantoni. Allora va ancora con Basilico. Verticalizzazione. Buppi in qualche modo. La palla resta vagante. L'Arpiona Salvini. Che lotta con Gentile. Due numerici a confronto. Viene fischiato fallo da parte del numero 10 della Torrese. Ancora Scaramucce con Porrini. E c'è un calcio di punizione dalla tre quarti. Per il Ponte Romano. Metterà Salvini. Ma presumibilmente nessuno andrà in mezzo. Infatti preferisce giocare per Cimini. Ancora Salvini. 30 metri. Cerca lo scambio. Attenzione. Verticalizzazione. Per Angelozzi. Che non arriva. Per una questione di centimetri. Buona trama di gioco. Con Leonzi. Che aveva cercato Angelozzi. In verticale. Attaccante. Non è riuscito a trovare l'aggancio con il pallone. Veramente di poco. Riparte subito la Torrese. Con Gentile. Che riceve al centrocampo un po' di spazio. L'esterno. A cercare festa. Ma viene anticipato. Fino ad adesso si stanno comportando molto bene i centrali del Ponte Romano. Che sembra aver cominciato a spingere. Dopo un buon avvio della Torrese. Ancora sulla cadena di destra. Ancora risuola di sec. Ancora Ponte Romano in attacco. Sale. Il solito Fazio. Per la rimessa laterale. Fanno vedere i compagni. Lungo un'altra volta. E lancia a cercare Polisena. Questa volta sec. Salta molto bene. Zona nevralgica del campo in cui si lotta parecchio. Ancora un cross in mezzo. Leonzi si aggancia. Poi forse un fallo. Sì. Fallo da parte di Leonzi. Nei confronti di Gentile. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Torrese. Torrese. Decimo minuto di gioco. Si va ancora al piccolo trotto. Evertura per Di qua. Da Di Nicola. Della destra. Cerca di servire molto bene Santi Rocco. Santi Rocco si gira. Attenzione. Clamorosa occasione per la Torrese. Con Santi Rocco che ha ricevuto da Di Nicola. Ha appienato il pallone in aria. Ha resistito. Una trattenuta. Si è girato. L'ha calciato col destro. Sfiorando il palo. Alla destra di Farnese. Che non ci sarebbe mai arrivato. Riprende a palleggiare il Ponte Mano. Che però poco fa ha rischiato tantissimo con quell'occasione di Santi Rocco. Davvero un movimento di attaccante vero. Pressing molto compatto. Recupera. Palla la Torrese. Con Di Nicola. Che poi smista. Pertini. Cambio di gioco sbagliato. Anzi. Un fallo di mano. Si riprende a girare. Recupera molto bene Pallangerossi. Che ha un po' di campo davanti. Salvinisi va a vedere al centro. Verticalizzazione per Polisena. Che non è in fuori gioco. Cerca di metterla in mezzo. Deviazione di Dillalo. Calcio d'angolo per il Ponte Romano. Quando siamo giunti all'undicesimo. Anzi no. Non è calcio d'angolo. Il guardienino ha avvisato un'altra deviazione. Dunque sarà rimessa dal fondo. In favore della Torrese. Da poco lungo è superato il decimo. Costruzione dal basso. Numero su Leonzi. Ancora lancio lungo. Ormai è chiarissimo lo schema della Torrese. Ancora sentirò colotta con due avversari. Va via di intrenare. Ma il campo è finito. Proteste da parte dei giocatori di Mr. Cristofari. Richiamo da parte dell'Ardeo. Però anche in questo caso non ha ravvisato nulla. Rimessa dal fondo che andrà a battere Farnese. E si resta sullo 0-0. Questo match valido per la seconda giornata del campionato di eccellenza. Rittimi che non sono trascendentali. Perché temperatura è molto alta quest'oggi. C'è un cambio di gioco intanto sbagliato. Rimbalzo falso del pallone però. Che comunque arriva a Salvini. Pressato dalle giocatori della Torrese che lo ingabbiano. Poi buppo. Davvero un grande avvio per il centrale numero 6. Classe 2000. Che sta originando. Così come adesso Fasek. Pallone che addirittura esce dal terreno di gioco. E il potevano che spinge sempre molto bene sulla catena di destra. La rimessa ancora per Salvini che cerca di farsi vedere spesso. Sec la rinvia. Ancora la ricerca di Santi Rocco che battaglia con Monaco. Ormai un duello aperto tra i due. Sono stati entrambi ammoniti per essersi fatti fallo reciprocamente. Qui c'è un fallo trattenuto da parte di Leonzi nei confronti di Nicola. Giusto a segnare il fallo. Rimessa veloce da parte della Torrese con Gentile. Ancora di Nicola. Mette in mezzo dalla destra. Pallone arriva di là dove c'è di Tini. Mette al centro. Esce Farnese sul cross dalla sinistra. Riparte subito. Lancio lungo. Ricerca di Polisena. Lotta con Sec. Che ha la meglio. E si prende anche il fallo. Ottima copertura da parte di Sec. Non la prende bene il pubblico. Fallo di Polisena. Resta a terra Sec. Credo per il contrasto con l'attaccante del Ponte Romano. Protesta anche da parte dell'allenatore del Ponte Romano. Che non l'ha presa affatto bene. Si rialza Sec. Non dovrebbe essere nulla. Poi lui che riprende posto a sinistra. Tini. Battere il calcio di punizione. Non è sulla destra ancora. Di Pietro Antonio spazza. Rimesso a laterale per la Torrese. Sec. Pallone per Festa. Che lotta con Di Pietro Antonio. Spalla alla porta. Cerca un compagno. Poi mette al centro. Di Pietro Antonio lo ribatte. E rilancia lungo verso Salvini. Che però non aggancia. Allora è di Lallo. Ricomincia la Torrese. Sicuro verso Camaglioni. Pressing da parte di Polisena. Che costringe Camaglioni al rinvio affrettato. Pallone che vaga pericolosamente al centro campo. Lo riprende la Torrese con una buona trama di gioco. Pallone ancora per Festa. Vertice disto dell'area. Cerca di rentare sul destro. Lo fa! E c'è il gol! Il gol della Torrese. All'improvviso. Festa! Si è portato il pallone sul piede destro. Ha fintato due volte la conclusione. E dall'interno dell'area ha lasciato partire una rasoiata. Che ha sorpreso Farnese sul suo palo. Dunque al quindicesimo passa in vantaggio la Torrese con Festa. Gran giocata e gran gol. Quindi 0-1 il punteggio. E adesso tutto da rifare per il Pontevomano. Si riprende a giocare. Vedremo se la squadra di casa sarà in grado di reagire subito al vantaggio degli ospiti. Di per Antonio Manovra. E ne è subito pressato. Riprende a palleggiare. La Torrese con Tini. Cerca di dare subito continuità al vantaggio della squadra ospite. Il pallone non è uscito. Quindi Monaco può riprendere. Ha subito il pressing molto alto. Molto aggressivo e coordinato da parte della Torrese. Che non lascia spazi al Pontevomano. Che cerca spesso di lanciolungo. Cosa che ha fatto molto bene la Torrese fino a questo momento. Verticalizzazione improvvisa verso i due attaccanti. E come abbiamo visto dalla prima è nata la grande azione di Santicocco e poi il gol di Festa. Però ha creato da solo quasi presupposti per il vantaggio. Adesso c'è una rimessa. Il lavoro è del Pontevomano. Si lotta ancora Polisena. Di piegamento per Porrini. Che cerca ancora lo scambio con Salvini. Sale anche Basilico in verticale il Pontevomano. Allarga verso destra dove c'è Fazio. Mette al centro. Pallone pericoloso. In qualche modo non la prende. E poi in due tempi ma viene fischiata a carica al portiere. Rimasto a terra Leonzi dopo il contatto con Camaglioni. Cercato subito di reagire il Pontevomano. Nessun problema per i due che si rialzano. Torrese. Adesso non ha nessuna fretta. Visto il punteggio che sta maturando. Anche se siamo solo praticamente all'alba di questo match. Gentile. Ancora Pontevomano in possesso palla con Porrini. Pontevomano che attacca sempre verso destra. Con Fazio che lancia lungo per Polisena. Lotta con Di Lallo. Pallone che arriva. Ad Angelozzi. La sua conclusione viene deviata da Mbup. E ha reagito. La squadra di casa. Adesso guadagna il primo calcio d'angolo del match. Prima non era stato assegnato. Non è da battere Salvini. Vedremo cosa può succedere da questo calcio piazzato. Salvini è uno schema errato completamente da spazio. La ripartenza da Torrese con Tini che cerca ancora festa prezioso. L'anticipo di Angelozzi che è rimasto quasi come ultimo uomo. E non l'ha giocata bene qui Salvini. È andato in uno schema abbastanza complicato da calcio d'angolo. Probabilmente non capito da Basilico che è stato anticipato da Tini. Rimessa laterale in favore della Torrese con Sec. Si incaricherà della battuta. Lunga gittata per Festa che lascia spazio. Ma Di Pietro Antonio chiude un'altra volta. Ennesima rimessa laterale. Per la Torrese. Ancora Sec. Match che si sta sviluppando su quella catena lì. Sinistra per la Torrese. Adesso per il Ponte. Ma un'attenzione. Contatto in area. Ti ha... Con Di Pietro Antonio. L'arbitro ha assegnato solo calcio d'angolo alla Torrese. Sta continuando ad attaccare. Andrà a battere Tini il calcio d'angolo. In precedenza è rimasto a terra di Federico. Dopo un contatto che non sembrava esserci effettivamente. Il difensore sembrava aver preso nettamente il pallone. Dunque calcio d'angolo per la Torrese. Noi siamo giunti al ventesimo minuto. Tinaga. Mucchio selvaggio. E stanno in due attaccanti. Va in mezzo. Spazza in qualche modo le onzi con uno spettacolare colpo di testa in tuffo. Rimessa laterale per la Torrese che resta in attacco. Sempre 1-0 il punteggio in favore della squadra di Cristofari. Se è il gol di festa. Fase di stallo della partita in cui la Torrese sta effettivamente giocando meglio. Il Pontevamano fatica a ripartire. Ancora le onzi. L'opera palla molto attivo il numero 7 in questo inizio di gara. Le angelozzi stanno cercando di dare quella spinta. Quella verba che un po' sta mancando agli attaccanti del Pontevamano. Rimessa lunga di Fazio. Ancora a cercare Salvini. Anticipato da Secco. Per l'arbitro non c'è nulla. Poi Mosca. Allora per Secco. Chiude Monaco ma favorisce nuovamente. L'intervento di Gentile che è praticamente in ogni zona del campo in questo avvio. Poi però sbaglia. C'è Bupp. Che allarga l'estra per Di Nicola. Cerca il numero. Viene fischiato un fallo nei suoi confronti. C'è calcio di punizione della posizione. Interessante per la Torrese. Salgono le torri. Secco di Lallo. Bupp sembra essere designato a restare come ultimo uomo insieme a Polisena. che è l'unico in avanti. Anzi sale anche Mbup e retrocede ovviamente di Nicola. Anzi Tini. Sul pallone c'è proprio di Nicola che andrà a battere questo calcio di punizione. Vertice destro dell'area di rigore del Pontevamano. Pallone al centro. Mette fuori Monaco ma c'è un calcio di punizione. era avvisato dal direttore di gara. Dunque palla nuovamente al Pontevamano. 20 minuti di gioco che sono trascorsi. Farnese sul pallone. Vedete come il pressing della Torrese si è subito improntato all'attacco. Ovviamente anche nelle fasi in cui il Pontevamano a palla ferma. lancio lungo di Farnese. Cercare il colpo di testa di Leonzi che spizza molto bene per Polisena. Però perde il pallone ingabbiato tra tre uomini. Cerca il numero di Federico Basilico. Riepertura per Fazio. Sbaglia Fazio. Recupera Tini. Prese che recupera molto bene il pallone. Stessa cosa fa il Pontevamano che guadagna la rimessa laterale. Porrini. Un pallo che favorisce quasi l'avanzata di Santi Rocco ma chiude molto bene di Petri Antonio. Che si rifugge in Farnese. Poggio per Monaco. Ricomincia a palla al pietre. Ricomincia dal basso. Il Pontevamano che deve ancora reagire. Lancio lungo alla ricerca di Cimini. Ma viene anticipato da Di Nicola. Bel duello 3-2. Guarda si rifugge su un WP che lancia lungo. Ma Porrini recupera subito il pallone. Verticalizzazione. Troppo su Camaglioni. Dunque Torrese nuovamente in possesso palla. Che mugugno da parte del pubblico. Che crederebbe magari qualcosa di più da parte dei propri giocatori. Intanto ricomincia la Torrese con Di Lallo. Lancio lungo a cercare il match winner. Fino adesso ma recupera molto bene il Pontevamano. Polisena. Lancio lungo per Angelozzi. Angelozzi. Fallone alto sopra la traversa. Ma bella azione da parte del Pontevamano. Con Polisena che ha cercato molto bene Ancelozzi. Destro che è terminato alto sopra la traversa. Sembrava esserci Camaglioni. Minuto 23. Occasione per il Pontevamano. Che ha reagito. Una buona trama offensiva. Che non ha portato al gol. Ma comunque sta crescendo. Si lotta ancora a centro campo. In qualche modo spazza. Polisena lotta con Di Lallo. Tocco di mano evidente di Polisena. Che ha cercato la furbata. Pensione dalla trequarta. Difensiva della Torrese con Di Lallo. Che va a cercare la testa di Santi Rocco. Ancora il duello con Monaco. Lo vince Santi Rocco. In qualche modo poi spazza Cimini. Pallone che si impenna. Salvini va a lottare con Di Federico. Anzi Contini. Di Piero Antonio. Confusione. Qui c'è Fallo di Di Lallo. Su Polisena. Anche questo è un duello. Che già si è ripetuto. Molte volte nel corso di questa partita. Invita la calma. Mister Piccioni. Chiede calma ai suoi giocatori. Visto che c'è tutto il tempo. Per recuperare questa partita. Qui nella terra di nessuno. Cimini. Se che non fa altrettanto meglio. E ancora si rinnovano i duelli. Questa volta vince Santi Rocco. Che cerca festa. In qualche modo se la cava. La difesa del Ponte Romano. Bup. Larga per Di Nicola. Sulla destra. A prestare le onze. Ancora Bup. Si guarda intorno. Poi lancio lungo. Ancora Monaco Santi Rocco. Ormai duella l'arma bianca tra i due. Confusione. Poi rimessa laterale in favore della Torrese. Non ha nessuna fretta. Squadra ospite. Sta battendo Di Nicola. Cerca gentile. Rargu però palla da parte di Porrini. Che si impone. E lancia l'offensiva del Ponte Romano. Ma ci sono grossi spazi. Poi il rogaccio da matita a blu di Fazio. Che cerca anche di recuperare. Ma la Torrese recupera molto bene il pallone. Lo gestisce Contini. Sta disputando una partita ordinata. Cambio di gioco. Ottimo per Gentile. Lo stop non è altrettanto buono. Lamento un fallo. Che forse sembrava esserci. Resta a terra gentile. Si continua a giocare. Pressing asfissiante da parte della Torrese. Anche qui non c'è nulla. Lascia giocare l'arbitro. Lotta le 11. E poi inevitabilmente arriva il fallo. Con le proteste dalla parte del pubblico. Sono molti tifosi della Torrese qui. Resta a terra gentile. Che si tocca la caviglia destra. Vedremo. Ci saranno dei problemi per lui. È solo un contatto di gioco. Quando ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di questa partita. Gentile che si rialza in questo momento. E dunque nulla di fatto. Pensione per il Pontevomano. Che ha reagito due volte. Prima con Angelozzi. E poi nuovamente con Angelozzi. Un'occasione ben più pericolosa. Con il suo diagonale destro. Che è terminato alto di poco sulla traversa. Imbeccato molto bene da Polisena. Sottovomano che riprende a palleggiare con Porrini. Una fucilata per Onzi. Che in qualche modo la smorsa. E appoggia per Stavini. Polisena. Attenzione. E qui c'è un brutto fallo di Sec. Forse in area. E per l'arbito è solo calcio di punizione dal limite. Ha rischiato tantissimo. Anzi è Mbabu. Molto al limite. Viene ammonito. Che ha rischiato tantissimo. Entrata a gamba unita. Ma l'arbito era avvisato soltanto un calcio di punizione dal limite. Questa può essere un'ottima occasione per il Pontevamano. C'è Salvini sul pallone. Veramente borderline era questo fallo. Vedete come sta posizionando il pallone Salvini. Saranno forse 40-50 centimetri dopo la linea dell'area di rigore. Questa può essere davvero un'ottima occasione per il Pontevamano. Poter pareggiare questa partita. Mezz'ora sul cronometro del direttore di gara. Tre gli ammoniti. Sono Santi Rocco, Monaco e Bup. Due per la Torrese. Uno per il Pontevamano. Ma adesso c'è questo calcio di punizione. Tra Salvini con il destro. Quattro uomini in barriera richiesti da Camaglioni. C'è molta confusione anche all'interno dell'area di rigore. Vedremo se calcerà o andrà in mezzo. Presumibilmente calcerà verso la porta. Tutto pronto. Ma Salvini colpisce male. Palla fuori. Cercato di far passare il pallone aggirando la barriera. Alla sua destra. Ma calcolato troppo male. E dunque rimesso dal fondo da parte in favore della Torrese. Rimessa dal fondo con Camaglioni. Ancora lotta tra Monaco e Santi Rocco. Esce. Farnese. Per gentile ma c'è l'ottimo. L'ottimo anticipo di Porrini. Che ripiega molto bene. Sta vincendo molti duelli. Il centrocampista che poi guadagna anche la rimessa laterale. Sì, non c'è stata la deviazione. Quindi rimessa laterale in favore della Torrese con Di Nicola. Anche lui molto attivo sulla sua catena di destra. Nella zona del centrocampo la rimessa laterale. Riva Festa. Ancora Di Nicola recupera il possesso palla. Smista per Di Federico che cerca la verticalizzazione. In qualche modo la palla arriva Festa che stoppa con Di Pietro Antonio. e non riesce a correggere ancora la otta in aria. Tra Fazio e Mosca. E rimessa laterale. Anzi, calcio di punizione in favore del Pontevano. Protesta. Il numero 7 della Torrese. Ma era evidente. In questo caso la trattenuta. Poco fa anche dunque occasione potenziale per la Torrese. Con Festa che non è riuscita a correggere in rete. L'avere saltato. Quanto meno ha provato a driblare di Pietro Antonio. Calcio di punizione che viene battuto da Camaglioni. Anzi, da Farnese. Lancio lungo. Alla ricerca di una torre. Un corasec. Dominante. Cerca subito di accelerare le operazioni. Fazio che serve Porrini. Gran partita fino ad adesso. Il numero 4 del Pontevano. Larga per Cimini. Leonzi. Si sovrappone Cimini. Ma Leonzi cerca la verticalizzazione per Salvini. Il pallone che arriva a Polisena. È buona. E invece no. Angelozzi aveva depositato in rete. Ma si è alzata la bandierina. E questo probabilmente sarà da rivedere. Che sembrava essere partito quasi in linea. Servirà a replay. Comunque Angelozzi aveva avuto la terza occasione. Di questo primo tempo. Che lamentera dalla parte del pubblico. Chiedeva la regolarità del gol. Invece si riprende con un calcio di punizione. Fuori della torrese. Camaglioni. Fazio. C'è una conclusione piuttosto fiduciosa. Anzi ottimista. Da parte di Santicocco. Ballone che termina praticamente fuori dall'impianto sportivo. Ha visto per un attimo. Farnese fuori dei pali. Ha cercato di sorprendere. Ma riparte ancora il Pontevano. Verticalizzazione improvvisa. Ancora di Nicola. Leonzi lotta con Gentile a centro campo. Si impone Monaco. Che lancia verso l'estero. Dove c'è Angelozzi. Ballone troppo lungo. Per l'esterno del Pontevamano. Si riprenderà con una rimessa laterale. In favore della torrese. Un bel primo tempo fino adesso. Due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Con la torrese che è sempre in vantaggio. Grazie al gol di Fest al quindicesimo minuto. Qui c'è un altro fallo. Ancora Pontevamano in passaggio. Palla. Cerca quantomeno di dare un po' di continuità. Ai suoi attacchi. La squadra di casa. Con il capitano di Pietrantonio. Cerca Salvini. Subito aggredito da tre giocatori. Si rifugia ancora in di Pietrantonio. Che lancia nella terra di nessuno. E l'aggressività della torrese. Sta mettendo in difficoltà il Pontevamano. Soprattutto in fase di possesso. In fase di impostazione. Di costruzione. Dal basso. Triplicate le marcature. Soprattutto su Salvini. Numero 10. Ancora Porrini. Subisce fallo. Da Di Federico. E c'è l'ammunizione per Di Federico. Che diventa il quarto ammonito della gara. Il terzo. Per quanto riguarda. La torrese. Ennesimo calcio di punizione dalla tre quarti. 34 i minuti di gioco. Sempre torresi in avvantaggio. C'è lungo di Pietrantonio. Ancora la ricerca di Fazio. Viene fermato. Pesta. Controlla. Spalla la porta. Bellissima verticalizzazione. Da parte di Federico. Che cerca Santirocco. Ripiegamento difensivo di Monaco. Che è costretto. Quanto meno ad evitare guai peggiore. A mettere in fallo laterale. Dove arriva subito di Nicola. Si va a vedere Gentile. Ma preferisce Tini. Cora di Nicola. Gentile. Viene trattenuto per l'arbitro. È tutto regolare. Gli prende il possesso del pallone del Ponte Romano. Con Porrini. Che rischia qualcosa. Ci mette una pezza Monaco. Che lancia. Bup. Ancora rilancia. Confusione. Porrini mette ordine. Ottima giravolta. L'arbitro lascia proseguire per la regola del vantaggio. Salvini. Catena di sinistra. Calitibolare di Nicola. Raddoppiato. Cimini. Buona giocata. Polisena. Entra in area. Polisena. Sterza sul destro. Cerca un appoggio. In qualche modo spazza la Torrese. Il pallone che resta nei paraggi. Di Nicola. Sballa la porta. Resta a terra. Cimini. Subito un contrasto aereo. Problemi alla caviglia. Problemi alla caviglia destra. Per lui. Si è ricaduto male durante il contrasto aereo. Subito è entrato lo staff medico del Ponte Romano che ha prontamente soccorso il numero 3. Sembra essere molto dolorante. Stocca insistentemente la caviglia destra. Ghiaccio spray. È alquanto serio. Sembra l'infortunio. Vediamo. È caduto male sicuramente. Ci sarà qualcosa da recuperare dunque in questo primo tempo. Ed è anche l'occasione per alcuni giocatori per dissetarsi vista la temperatura. Duro ormai fermo da un minuto. Aiutano anche i giocatori della Torresa a rialzare. Cimini che zoppica. Cerca di poggiare quantomeno la gamba destra. Ma in questo momento non sembra essere nelle condizioni per poter tornare in campo. Chiede di aspettare lo staff medico che poi dà l'ok. Quindi nulla di fatto con Cimini che uscirà prima dal campo e poi rientrerà come da prassi. Meno di dieci minuti più recupero la conclusione di questo primo tempo. Che vede sempre la Torrese in vantaggio grazie al gol di festa dopo quindici minuti. In questo momento Torrese a punteggio pieno con sei punti visto il successo all'esordio contro Casalbordino. Possesso ancora per la squadra ospite. Ne ha restituito il pallone. Con Camaioni pronto al rinvio. Ancora a cercare il colpo di testa di festa di Pedro Antonio. Raggiunge in qualche modo. Poi Gentile allarga per Di Nicola. I due stanno dialogando molto. E in questo primo tempo ancora Di Nicola. Cerca uno spiraglio giusto. Gentile si offre a destra. Ancora per festa che entra in area. Metta al centro un gran pallone teso. In qualche modo poi la palla arriva a Di Federico che dà ottima posizione. Sparalto. Questa è un'occasione davvero importante per la Torrese. Ci ha provato Di Federico che ha raccolto un pallone vagante al limite. Però ha calciato molto male con il destro. Si riprende a palleggiare ancora con il Ponte Romano. Con Leonzi che allarga sulla testa dove c'è Polisena. L'anticipo. In buppo davvero con i tempi giusti. Anche rischiato perché ha allungato molto la gamba alla ricerca del pallone. E l'ha trovato ma batte subito il Ponte Romano. Cimini che sembra essersi ripreso. Polisena lotta e solo. Viene triplicato. In qualche modo tiene ancora il po' stesso palla. Ancora in tre su di lui. Gentili riprende il pallone e poi commette fallo. Polisena sul centrocampista della Torrese. Si è andato un po' a chiudere in un imbuto l'attaccante. Forse c'era lo scarico più semplice per Salvini. Infatti il pubblico un po' lamenta. Quest'opzione che forse era la più semplice. Si riprenderà con un calcio di punizione dalla destra per la Torrese. Ancora con Bup. Cercare Santirocco. Battaglia. Festa che anticipa. Attenzione. Di Pedramatone ci mette una pezza in qualche modo. Di Dallo non deve nemmeno staccare da solo. Basilico forse commette fallo su di Federico. E calcio di punizione per la Torrese. Cinque minuti alla conclusione. Il primo tempo. Nella Torrese che sta conducendo 1-0. E' andato a scaldarsi già qualche giocatore. Mister Piccioni. Magari non è soddisfatto dell'atteggiamento di qualche giocatore. Anche per precauzioni. Questo è il futuro corso a Cimini. Ancora di Federico. Ancora c'è un colpo di tacco per festa. Di Pedramatone in qualche modo. Ancora festa. Ancora devia in calcio d'angolo. Occasione potenziale. Per la Torrese. Che ha sfiorato il gol. Era andata a rete praticamente la conclusione di festa. Di Pedramatone ci ha messo una pezza. Negando la gioia del gol. Negando la gioia della doppietta. L'attaccante numero 11 della Torrese. Ma resta in attacco la squadra di Cristofari. Con un calcio d'angolo. Chiama lo schema. Tini. L'arbitro però vuole vederci chiaro. Richiama. Vediamo chi sono. Due credo. Sec e Basilico. Eh sì. Sono proprio loro. Adesso c'è il via per battere questo calcio d'angolo. Basso per Santirocco. Che cerca la deviazione. Ma viene anticipato. Pallone vacante. Se lo recupera di Federico. Poi Porrini. Lancia lungo. La ricerca di Salvini. Ancora verticalizzazione improvvisa. E un'ottima palla per Angelozzi. Che anticipa di Nicola. E in qualche modo la palla arriva a Polisena. Tutto solo. Polisena. Il tiro. E la palla fuori. Che occasione. Clamorosa. Clamorosa. Per il Ponte Romano. Con Polisena che si è presentato tutto solo. Davanti a Camaioli. Ma con il destro ha calciato al lato di pochissimo. Occasione gigantesca. La più grande di questo primo tempo. Se non consideriamo il gol della Torrese. Disappunto da parte della panchina e del pubblico. Per questa era un'occasione gigantesca. Era tutto buono. Era tutto buono. Che occasione davvero incredibile. Sparato fuori. Non ha nemmeno preso lo specchio della porta. L'attaccante numero 9. Dopo che Angelozzi in qualche modo aveva vinto un contrasto con Di Nicola. Davvero questa è la più grande chance della prima operazione. Vedremo se in questo finale di tempo il Ponte Romano riuscirà a trarre benefici dal punto di vista psicologico. Leonzi. Cerca spazi. Cimini. Ottimo. Sto passi qui per Cimini. Che vada solo. Lo festa. Lo rincorre in qualche modo. Secca. Ancora. Poi atterra sul compagno di squadra. Malarvedro fischia un calcio di punizione. Questa atterra gentile. E nuovamente che gioco che si interrompe per l'ennesima volta in questa prima frazione. Davvero un'occasione incredibile sciupata dal Ponte Romano. Capiamo. Con Polisena che ha sfruttato in comprensione o quantomeno il contrasto tra Angelozzi e Di Nicola. Vinto dal numero 11 del Ponte Romano. Ma clamorosamente con il testo sparato fuori. Palone che poi è rimbalzato dalla parte sbagliata della rete. Dando l'illusione del gol a molti degli spettatori. Davvero che Torrese se l'è vista brutta. Di Lallo lancia subito lungo. Batte un calcio di punizione. In qualche modo qui sbaglia completamente l'intervento faccia. Del via la ripartenza della Torrese. Converge verso il centro Mosca. Ma Porrini lo anticipa. Mosca qui però poteva far meglio. Qui c'è un fallo commesso da Polisena su un babù. Che è subito strillato. Mi pare anche sentito dai microfoni. Proteste da parte del pubblico di casa. Che non ha gradito la scelta del direttore di cara di assinare il calcio di punizione. Alla Torrese si è subito rialzato un babù. Sta lottando molto con Polisena. Ma adesso torniamo in diretta con Di Nicola. Gentile sulla destra. Numero di Gentile che converge verso il centro. Viene fermato sul pallone. Giustamente da parte del direttore di cara. Leon si rilancia ma il pallone termina direttamente fuori. L'idea c'era. L'esecuzione è meno. Ne mancano ormai meno di due minuti alla conclusione di questo primo tempo. 44 ai minuti. Torrese sempre avanti. Ma il Pontevomano ha sciupato davvero una grande occasione. Poco fa. Con Polisena che ha calciato clamorosamente fuori. Santicocco trattiene Monaco. Calcio di punizione per il Pontevomano. Gli timi che sono andati ad alzarsi progressivamente. Cioè se troviamo il contrario. Visto che comunque fa molto caldo oggi pomeriggio. E il 99% del campo. Per non dire 100% è esposto al sole. Riparte il Pontevomano. Con Farnese. Un totale completo viola. Lancia lungo. Ancora la ricerca di Polisena. Prima di lui Tini. Santicocco tutto solo. Sbaglia completamente la sponda per Gentile. E permette ancora al Pontevomano di organizzare un'offensiva. Mabù viene anticipato. Secco da Polisena. Leonzi. Entra in area di cura. Ancora Leonzi. Leonzi. Grande intervento di Di Lallo. Fatto di una grandissima diagonale. Il numero 5 della Torrese. Che ha impedito a Leonzi di mettere in mezzo un pallone. Perché Salvini che stava arrivando a tutta velocità. Ma c'è comunque un calcio d'angolo importante per il Pontevomano. Che prova a chiudere questo primo tempo in attacco. Va Salvini sul pallone. Calcio d'angolo dalla sinistra. Salgono tutti. Restano solo Cimini e Fazio. A protezione della porta di Farnese per quanto riguarda il Pontevomano. Sta per battere Salvini. Pallone nel mezzo. Attenzione un colpo di testa. Ma viene fischiato. Fallo. Carica al portiere nei confronti di Camaglione. Va colpito di testa ancora Angelozzi. Davvero sempre presente nelle azioni offensive del Pontevomano. A poco dovrebbe esserci la segnalazione del recupero. Cristofari imbufalito con i suoi giocatori. Invio di Camaglione. Senti Rocco, lotta con Fazio. C'è nessun fallo. Era avvisato dal direttore di gara. Tante proteste da parte del mister del Pontevomano. Mister Piccioni. Fallo. Schiato. Confronti di Fester. Con messo fallo su Basilico. Si è prontamente rialzato il numero 8 del Pontevomano. Perché Antonio si incarica dalla battuta. Anzi lascia a Farnese. Su questo ritmo potrebbe concludersi il primo tempo. Vedremo se ci sarà il duplice fischio da parte del direttore di gara. Si continua a giocare. Con Polisena che vince il duello aereo con Di Lalla. Poi in qualche modo Mosca due volte di Federico. Lancia lungo. È buona la posizione di Santi Rocco perché è partito prima del centrocampo. Ma Farnese legge l'azione con i tempi giusti. E spazza via. Pallone che non esce. E Secchi in qualche modo lo rimette in gioco. E bup. Lancia per evitare guai. Ancora Secchi. Un 1-2 molto articolato. Testa. Poi Mosca ancora. Cercare la verticalizzazione. Liscio. Poi Cimini con una buona diagonale recupera. Nel possesso ancora di Doloressa che prova ad organizzare l'ultima azione di questo primo tempo. Con Tini al piccolo trotto. Si appoggia a Di Nicola. Ancora Tini. Ci pensa su. Poi verticalizza molto bene. E mostra che va al volo. Una gran conclusione mancina. Si è coordinato splendidamente il numero 7 della Torrese. Pallone che è rimbalzato sull'esterno della rete. È davvero un buon tentativo qui da parte del numero 7. Passa il 2001. Anche per lui un buon primo tempo. Farnese è alla battuta. E finisce il primo tempo con la Torrese in vantaggio. 1-0 sul Ponte Romano grazie al gol di Festa. Noi ci sentiamo per la seconda frazione di gioco. Noi ci sentiamo per la seconda frazione di gioco. Di nuovo collegati per il secondo tempo di Ponte Romano-Torrese. Con la Torrese che è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Festa dopo un quarto d'ora. Sembra esserci stato un cambio nel Ponte Romano. Con l'ingresso del numero 20. Suma. Vedremo chi è. Il posto di Cimini. Dunque è tutto pronto per la ripresa di il secondo tempo che comincia in questo momento. Con la lotta a centrocampo. Polisena. E' subito all'attacco il Ponte Romano. Cerca subito di recuperare con Salvini che converge verso il centro. Pensa per un momento alla conclusione. Poi serve proprio Suma. C'è più centimetri in area di rigore. Cross in mezzo di faccio proprio per Suma. E in qualche modo Camaglioni la fa sua. Minuto di gioco. Pronto al rinvio. Camaglioni. Minuto di gioco. Ecco c'è stato questo cambio nel Ponte Romano. Qui. Una piccola inconvenzione tra Di Pietrantonio e Farnese. Cerca subito per Fazio. Sulla catena di destra. In questo momento deve cercare ovviamente i lanci lunghi. Per i centimetri di Suma. L'anticipo di Sec. Molto bravo. Leonzi in qualche modo sguscia. Cerca poi una palla in mezzo tra Polisena. Suma e Suma ma alla fine palla nella terra di nessuno. E Camaglioni che la fa sua senza troppi problemi. È una buona occasione potenziale per la squadra di Piccioni. Saranno aperti degli spazi che non sono stati sfruttati a dovere. Ripende a palleggiare Tini. Quanto riguarda la Torrese. Li si fa incontro. Polisena che recupera il pallone. Corre la lotta 3-2. Polisena controlla. Spalla la porta. Tini recupera. E poi lancia subito per Mosca. Converge verso il centro. Lotta tra due numeri sette. Cora festa. Prova il destro dalla lunga distanza. Camaglioni. Anzi Farnese la blocca senza problemi al secondo minuto. Bup. Un cio lunghissimo campanile. Non è che si impegna. Possesso palla per il Pontevano con Leonzi. Che preferisce ricominciare da Fazio. Al piccolo trotto il Pontevano. Ci sono grossi spazi. Allora Fazio va lungo. Cercare ancora Suma. Sbaglia Suma. Di Nicola. Pressato da Salvini. In difficoltà di Nicola. Che però raccoglie il massimo da questa situazione. Rimessa laterale per la Torrese. Tini. Controllo difficoltoso. Poi cerca di Lalo. Capri di qua. Per... Sì sec. Gentile. Forse una trattitudine sui confronti. È arrivato un po' in ritardo il fischio del direttore di gara Beltrano della sezione di Rimini. Capunito. Un fallo di Basilico su Gentile. Contatto a centrocampo 3-2. Si riprenderà dunque con un calcio di punizione in favore della Torrese. viene battuto subito da Di Lalo. Ma l'arbitro vuole vederci meglio. Punizione che dovrà essere ribattuta. Chiede di mettere a terra il pallone. E adesso si può riprendere con Di Lalo che serve in bup. Si guarda intorno. Poi lancia lungo alla ricerca di festa. Monacolo sovrasta. Ancora Tini. Zona nevralgica del campo. Lancia lungo a cercare Mosca. Una buona idea per Mosca che va addirittura di testa. Non ha problemi Farnese a bloccare la sfera. Si guarda un po' intorno. Non ci sono movimenti da parte dei compagni. Preferisce. Non riesce ad appoggiarsi a Monaco. Ten ten. Farnese che poi rilancia. Nella terra di nessuno. L'anticipo festa. Torna in posto sopalla il puntevo mano con Monaco. Forse fallo di mano qui netto di Nicola. Protesta nemmeno. Calcio di punizione per il Pontevo mano. Non ci sono stati cambi nella Torrese. Che sul terreno di gioco con lo stesso 11 della prima operazione di gioco. Un cambio invece nel Pontevo mano con Sumac ha preso il posto di Cimini. Evidentemente ha ciaccato dopo la brutta botta. Attenzione. Rischia di Pietrantonio su Santi Rocco. Poi riprende a palleggiare ancora di Pietrantonio. Cerca Salvini che si abbassa molto. Prendere il pallone. Porrini. Verticalizzazione improvvisa per Sumac. Un buon pallone questo per Sumac. Che controlla. Spalla la porta. Qualche modo appoggia per Polisena. Poi non imbuta adesso i giocatori del Pontevo mano con Salvini. Serie di finte con Di Nicola che non ci casca. Allora deve ricominciare ma sbaglia. Salvini. Allora riparte la Torrese con Festa. Recupero. Ottimo da parte del Pontevo mano. Larga verso destra dove c'è Fazio. Leonzi. Ricomincia per Basilico. Verticalizzazione improvvisa di Basilico. Un'ottima palla per Sumac. Stoppa di petto. Anzi fuori gioco. Buona dramma di gioco che poteva far scaturire. È un'occasione importante. Stesso schema che ha adoperato la Torrese nei primi minuti di gioco. Cercando le verticalizzazioni improvvise verso le due punte. Nuovamente punizione per la squadra di Cristofari. Se sgonfio il pallone. Momento di pausa della partita. Fai ridere arbitro. Non riusciamo a capire cosa stia succedendo. Se è qualcosa che non va. Di Lallo che ormai è pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Forse c'è stata un'espulsione. C'è stata un'espulsione. Ma esagerato. Qui il direttore di gara. Molto fiscale. Si perde del tempo. Circa un minuto di gioco. Un minuto e mezzo. Che lo gioco è fermo. Qui al campo sportivo Renato Ruggeri. Di Lallo che è in attesa ormai da molti secondi. Pubblico che non accetta di buon grado la decisione del direttore di gara. Effettivamente fiscale. Adesso può battere. Lallo lancio lungo alla ricerca di festa. Che anticipa Monaco. Santi Rocco. Passaggio per la conclusione di Ferriolo. Viene ribattuto e favorisce la conclusione di Santi Rocco. Che si perde alta. Sopra la traversa. Se non è piuttosto casuale. Ma che poteva diventare pericolosa. Presa di controbalzo. Cerca anche la costruzione dal basso. Rischioso qui il passaggio per Porrini. Da parte di Farnese. L'anticipo di Mosca. Che brucia Fazio. Ancora Mosca. Rientra sul destro. Metta al centro. In qualche modo Porrini. La palla resta al limite dell'area. Dove c'è di Federico. Che allarga nuovamente per festa. Ottimo. L'intervento di Angelozzi. Che sta disputando un'ottima partita. E qui c'è un fallo di Federico. E si è fatto anche male. Nel contrasto con Angelozzi. Resta a terra. Il numero 11 del Pontevamano. In questo momento si. Sembra essere ovviamente in grado. Di riprendere. Regolarmente il match. Perché di Federico. E anche ammonito. E non può. Rischiare interventi. Si riprenderà dunque con un calcio di punizione. La squadra di Valti Arpiccioni. Deve abbattere Monaco. Nel mancino. Lungo. La ricerca di Polisena. Il pallone arriva direttamente sul muro. Direttamente fuori. Quindi la rimessa laterale. Per la Torese. Che visto il punteggio. Non ha proprio fretta. Di riprendere. Le operazioni. Di Nicola. Cerca festa. Il pallone che galleggia nella zona nevralgica del campo. È stato ravvisato. Un fallo. Proprio da parte dell'attaccante numero 11 della Torese. Riprende a giocare il Pontevamano. Fase di gioco abbastanza particolare. Con tante interruzioni. Tanti contrasti. E tanta lotta. Adesso cerca di organizzare una trama di gioco. Scuola di Piccioni. Con Porrini. Che allarga sulla destra per Leonzi. Ottimo stop a seguire. Occhi negli occhi con Sec. Leonzi. Cerca un passaggio indietro. Per Fazio che mette al centro. Quasi un campanile. Per Salvini. Che la raccoglie. Presidio del vertice disto dell'Ara. Salvini. Un tiro cross. Per Leonzi. Che è arrivato con i tempi giusti. Occasione potenziale. Per il Pontevamano. Nulla di fatto. Si ripenderà con una rimessa dal fondo. Per la Torrese. Con Camayoni. Sono già il decimo minuto di gioco. Tra poco dovrebbe esserci. Potrebbe esserci un cambio per la Torrese. Visto che Mr. Cristori ha mandato a scaldarsi due giocatori. Ancora un botto a centro campo. Santirocco. Ottima gestione del possesso palla. Poi di Percantone. Li si frappone. E recupera in modo incredibile questo pallone. Persuma. Pascia sinistra. Cerca di convergere verso il centro. Mattini. Lo rimonta. Li strappa il pallone. E spazza. Cercando di Federico. Un buon aggancio. Ma Angelozzi. Che partita che sta giocando il numero 11 per Polisena. Che viene agganciato al limite dell'aria. Castellino. Punizione. La posizione è molto interessante per il Pontevamano. Quando siamo giunti al decimo minuto di questo secondo tempo. Punito il fallo di Gentile nei confronti di Polisena. Timide proteste da parte del numero 10. Un fallo che sembrava esserci. Che sembrava netto. Un rabattere sempre Salvini. Che nella prima frazione di gioco ha avuto un altro tentativo. Sempre dal limite. Ma con il destro ha calciato a lato. Senza creare grossi problemi a Camaioni. Sono 5 giocatori di 6. Considerando anche di Pietrantoni. I giocatori del Pontevamano in area di rigore. Pronti a un eventuale cross del numero 10. Dovrebbe essere questa la trama del calcio piazzato. In favore della squadra di casa. Vuole evitare ovviamente la seconda sconfitta consecutiva di questo campionato. Come aver perso 3-0 in casa della Virtus Cupello. Tutto pronto per il calcio franco. Salvini. La palla corta per Polisena. C'è un contatto in area di rigore. Ma lascia proseguire il direttore di gara. Contratto da Bup e Polisena. Si è spallata energica da parte del numero 6. E poi c'è un fallo. E qui il match che si sta forse incattivando. Perché è rimasto a terra Polisena. Ovviamente non c'è il VAR in eccellenza. Quindi la decisione dell'arbitro è irremovibile. Vedremo se ci sarà invece il cartellino giallo per Di Nicola. Reo. Anzi il cartellino giallo è per Porrini. Ve ne ha munito Porrini per proteste. Ammunito per proteste. Il numero 4 del Ponte Pomano. Forse aveva chiesto a gran voce il calcio di rigore. Quanto meno un'ammunizione per un giocatore della Torrese. Un match che si ferma nuovamente. Occasione anche per un time out. Una sorta di cooling break. Il sole sta scendendo. Quanto meno coperto. dalle nuvele. Quindi sono le condizioni perfette per giocare a pallone. Vicini al quarto d'ora del secondo tempo. Tra poco ricordiamo. Doveva esserci dei cambi. Il Ponte Pomano che ha già inserito Suma al posto di Cimini. Il pubblico che non sta prendendo benissimo le decisioni del direttore di gara di Cimini si riprenderà con il possesso per quanto riguarda la Torrese. E Tini recupera e dà pallone a Farnese. Dunque il possesso palla nelle mani. Quanto meno nei piedi dei giocatori del Ponte Pomano. Deve accelerare un po' le operazioni della squadra di Piccioni. Qui sbaglia il rinvio. È la seconda volta che questo succede. Il possesso palla. Nuovo per la Torrese. Non ci sono state grosse occasioni fino adesso in questo secondo tempo. Alcune potenziali come la conclusione di Santi Rocco, il colpo di testa di Leonzi. Per il resto nulla da segnalare. Tanta intensità come accade spesso in queste partite. E si riprenderà ancora una rimessa laterale. Sponda per Festa che calcio col Mancino. La reazione da parte di Pietrantonio. Si riprenderà con un calcio d'angolo in favore della Torrese che comunque dà sempre l'idea di poter essere pericolosa ogni qualvolta attacchi. Calcio d'angolo che verrà battuto da Di Nicola. Festa è 96. Calcio d'angolo dal versante destro. Andrà a battere proprio di destro di Nicola. Arriva lo spiovente. Pallone interessante per il colpo di testa di Di Federico. E c'è la grande parata di Farnese. Poi non è riuscito. Santi Rocco a deviare. Che occasione per la Torrese con Di Federico. Che ha sfiorato il gol del 2-0 con un colpo di testa perentorio sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 59esimo minuto. Poi Santi Rocco non è riuscito a correggere il rete con il destro perché la posizione era molto complicata perché era a spalle alla porta e doveva girarsi praticamente di 180 gradi per poter segnare. Ma è davvero notevole la risposta di Farnese che ha negato al numero 8 della Torrese la gioia del 2-0 che probabilmente avrebbe indirizzato la partita. Ma ancora la Torrese in attacco con Santi Rocco che in qualche modo si ritrova il pallone tra i piedi. Porta il pallone verso la bandierina. Chiuso da Di Petriantonio. Non lo molla. Ancora in posto e sopalla. Per arrivano in tre. Ancora Santi Rocco. che alla fine non prende nulla. Rimessa dal fondo per il Ponte Mano che se l'è vista davvero brutta pochi minuti fa. Ci ha pensato Farnese a togliere le castagne dal fuoco con un bel intervento di puro istinto sul colpo di testa con ottima scelta di tempo da parte di Federico. Ma torna ad attaccare il Ponte Mano. Grande stop di Sumo che con la suola si porta il pallone in avanti. Mole davvero notevole per l'attaccante numero 20 che però poi perde il pallone. Lo gestisce nuovamente la Torrese con sec che non bada. all'estetica e lancia lungo dove lottano Fazio e Festa. Alla meglio il numero due del Ponte Mano che poi sbaglia tutto. Pubblico che protesta nuovamente per una trattenuta di Festa su Fazio. Santi Rocco intanto protegge il pallone. Non c'è nulla secondo il direttore di gara che poi ravvisa un calcio di punizione per il Ponte Mano. Già battuto. Angel Ozzi poggia per il Salvini che viene sempre molto basso a prendere il pallone. Scambia con Polisena. Un gioco a tre. Ancora Polisena capisce tutto. Bup davvero una gran partita del centrale. E sbaglia tutto Festa. Che regala il pallone al Ponte Mano depositando direttamente sulle fondo. Era un assist per Santi Rocco. Troppo ottimista in questo caso il numero 11 della Torrese. Riparte il Ponte Mano con Fazio Basilico. Testa alta. Via col destro a verticalizzare per Polisena. Molto attivo. Grande occasione spregata. Sembra essere tutto buono per Suma. Che controlla. Suma a palo. Palo di Suma. Che occasione. Gigantesca. Gigantesca occasione per il Ponte Mano. Tutto buono. Suma è entrato in area. Con il destro. Ha colpito in pieno il palo. Alla sinistra di Camaioni. Al sessantatresimo minuto. Clamorosa occasione per il Ponte Mano. Suma sembrava avesse perso il tempo. Per un attimo è riuscito a calciare con il destro. Ma il palo gli ha negato la gioia del gol. Gioco nuovamente fermo. Possesso palla. La Torrese viene restituito il pallone da parte di Leonzi. Piccioni cerca di caricare i suoi. Sa che il momento è fondamentale. Perché abbiamo superato l'ora di gioco. Siamo entrati nell'ultimo terzo di partita. Due grandi occasioni per parte. La prima di Federico per la Torrese. E la seconda. Consuma. Ancora più clamorosa. Sembra essere tutto buono. Anzi è fuori gioco. Alza la bandierina. Gentile aveva imbeccato festa. Sul versante sinistro dell'area di rigore. Farnese. Nuovamente ricomincia spesso verso destra. Il Ponte Mano. Molto sulla corsia di destra. Lancio lungo. Suggerito dal pubblico. Ancora per Suma esce con i tempi giusti. Camaglioni ormai è chiaro. Il canovaccio tattico del match. Con il Ponte Mano che cerca spesso la verticalizzazione della palla lunga. Perché adesso ha dei centimetri da sfruttare. Un po' come la Torrese. Tini. Larga per Sec. Sul corto per Mosca. Ancora Sec. Lancio lungo. Il Pietro Antonio non arriva. E spiana la strada. Santicocco. Santicocco per il destro. Il raddoppio della Torrese con Santicocco. È arrivato il gol del raddoppio. Inveccata di Sec. Tempo sbagliato. È uscita da parte di Pietro Antonio che ha spianato la strada a Santicocco. Che con il destro è stato molto freddo. Destra sotto le gambe. Farnese non può far nulla. È arrivato il raddoppio dunque della Torrese che scappa via con Santicocco. Esultanza sotto il settore dei tifosi ospiti per il numero 9. E dunque al sessantaquattresimo arriva il raddoppio. Della Torrese adesso si fa davvero dura. Per il Pontevamano che deve recuperare due reti. E vedremo se ci saranno dei cambi. Forse saranno inevitabili a questo punto. Romincia il Pontevamano. E questa può essere davvero una doccia fredda per la squadra di Piccioni. che ha pagato una disattenzione difensiva errata. L'uscita di Capitano di Pietro Antonio che ha calcolato male il rimbalzo del pallone. Santicocco non ha potuto fare altro. Ringrazia, controllare e depositare con il piatto destro sotto le gambe di Farnese. Fazio numero sul Mosca che lo trattiene. Il pubblico chiede il cartellino giallo. Lancia, lancia! È clima davvero infernale adesso. Torrese che in questo momento è in testa al campionato con sei punti. Dopo il successo con il Casalbordino, la squadra di Cristofa che sta dando continuità. Prova Porrini con la conclusione da fuori. Ottimista anche lui. Poi in qualche modo Monaco deve rifugiarsi in fallo laterale. È un momento di maggiore difficoltà adesso per i padroni di casa. Che devono scalare una montagna. Visto che comunque manca poco meno di mezz'ora la conclusione del match. Il recupero. Dovresti che può beneficiare adesso degli spazi. Qui si lamenta Mosca che ha tutto solo. Non l'ha visto Tini. Lo vede adesso però. Lancia molto bene. Maleon si capisce tutto. Secondo fallo consecutivo di Mosca. Sul numero 7. Del Pontevomano. Un giocato davvero bene. Due numeri 7. Mosca classe 2001. Leonzi classe 2000. Davvero un'ottima partita disputata dei due. Stanno battagliando sulla corsia di destra. Cora rischiosissimo qui il retropassaggio di Federico. Anzi di Di Nicola. Rischia anche Camaglioni che in qualche modo si libra del pallone. Poi una serie di rimpalli favorisce la ripartenza della Teresa. Il piccolo trotto con Di Nicola. Si appoggia per Federico sulla fascia destra. Ancora Di Nicola. Converge verso il centro. Cambia gioco per Mosca. Fazio capisce tutto. Lancia ancora per Leonzi. Squadre che si stanno progressivamente allungando. Porta verso la linea di fondo Leonzi. Poi ci ripensa. Cerca Basilico. Lo trova. Basilico di prima. Forse poteva aspettare. Mosca capisce tutto. Frenesia da parte del Ponte Romano che vuole recuperare subito. Ma così facendo fa il gioco praticamente della Torrese. Festa grandissima. Sponda per Monaco. Di Pietro Antonio ancora un po' in difficoltà. Porrini. Particalizzazione ma anche qui. Bup davvero una partita importante. Ma qui non aveva ravvisato il fallo il direttore di gara che ha guardato, scusate il gioco di parole, il guardia linee concedendo fallo laterale al Ponte Romano. Se non andiamo errati. Andrò a battere Angelozzi. Vedremo quali saranno i primi cambi di mister Piccioni. Beneficiato cambio fallo. E dunque sciupa anche questa potenziale occasione. Metà della seconda frazione di gioco a Renato Ruggeri. Torrese che ha raddoppiato pochi minuti fa con la rete di Santi Rocco. Dunque in rete tutte e due le attaccanti. Festa e Santi Rocco. Continua il dialogo personale tra il mister del Ponte Romano e il direttore di gara. E il gioco nuovamente interrotto. Cambia i terzini, i piccioni. Con Leonzi a destra e Fazio a sinistra. Cioni cerca questa mossa. C'è una cacciata di Angelozzi. Intanto c'è stata un'espulsione. Sì, sì. Espulsione di Angelozzi. Spulso di Angelozzi. E adesso si complica veramente. Perché il Ponte Romano che in dieci uomini. Espulsione di Angelozzi. Con la forza della disperazione adesso il Ponte Romano. Con Leonzi che mette al centro ma l'arbitro non vede. Forse un fallo di mano che sembrava esserci da questa inquadratura. Vibranti le proteste del pubblico di casa. Non c'eravamo accorti dell'espulsione di Angelozzi. In presenza è stato tutto molto rapido. Ecco loro giustificate le proteste da parte di mister Piccioni che non ha preso affatto bene la decisione del direttore di gara. Adesso si aprono praterie per il contropiede della Torrese. ma Festa viene pescato in fuorigioco. Sono saltati tutti gli schemi. Arbitro che interrompe il gioco. Non era depositato in posizione regolamentare. Il pallone è veramente il calcio di punizione. Monaco. Adesso in campo con una sorta di 4-3-2. Il Ponte Romano. Torrese con il 4-4-2 classico. Basilico forse pallone un po' lungo. Monaco. Tutto il Ponte Romano è nella metà campo della Torrese. Non ha nulla da difendere. Squadra padrona di casa. Liscio di Monaco. Santi Rocco. Si aprono spazi. Due contro quattro. Recupero di Fazio su Festa. Che protegge il pallone. Spalla la porta. Alla fine se la porta fuori. Si riprenderà una rimessa dal fondo. In favore del Ponte Romano. Che è sotto di due gol. È sotto di un uomo. Impresa ai limiti dell'impossibile. È sotto di un uomo. È sotto di un uomo. Bravo invio Farnese. Lunga agitata. Pallone che per la terza volta termina direttamente fuori. Adesso subendo anche il nervosismo. La voglia di recuperare subito. Di far qualcosa. Quanto meno di tornare in partita. Una terza davvero ben messa in campo. Lo dimostra l'ottima partita da parte dei due centrali. Solo gol subito in due giornate. Di lallo di testa. Pallone che resta nei paraggi. Lo prende ancora. Bup. Gran partita. È un po' complessa. Con Leonzi. Sì Fazio. Spostato a sinistra. Monaco. Piccolo trotto. Il Ponte Romano. Che però ha fretta. Ha necessità. Di recuperare. Sbaglia. Di vedere Antonio. Adesso anche un po' di scoramento. Perché ovviamente la partita sta sfuggendo di mano. Di Federico. Sbaglia. Qualche modo su ma sbaglia restituendogli il pallone. Non commette fallo dunque. Si riprenderà con una rimessa laterale in zona d'attacco. In favore della squadra di Piccioni. Molto nervoso. Anche Mr. Cristofaro in panchina. Andrà a battere Leonzi. Un'aggittata. Quasi tutti. Un calcio d'angolo corto. Con Polisena. Che aggancia. Ma lo fa in malo modo. Favorando la presa sicura di Camayoni. Non ha alcun tipo di fretta. Ma rilancia ugualmente la ricerca di uno compagno. Mosca. Lascia gentile. Quasi camminando. Tini. Scambia ancora con Gentile. Corre Polisena. Mentre si è fatto male. Si è fatto male. Seck. Problemi per lui. Si tocca Linguine. E con tutta probabilità. Ci sarà un cambio. Per la squadra di Cristofari. Dovrebbe esserci il primo cambio. Dunque. Che obbligato. Si sta. Entra in questo momento il numero 13. Ragazzo. Desce Seck. Che è appena entrato in campo. Numero 13. Che però. Cambio che deve essere ancora effettuato. In questo momento l'arbitro dà l'ok. Dunque entra Ragazzo. Al 74. Posto di Seck. Più di un quarto d'ora. Più recupero. Dunque. Dormi bambina giù. Ritmi molto bassi in questa fase. Un camaioni. Proprio per Ragazzo. Boop è stato spostato a sinistra. Gentile. Si appoggia proprio a Boop. Che sbaglia. Favorendo il rupero di Leonzi. Pallone che viaggia al centrocampo senza nessun padrone. Lo recupera Porrini. Che poi smista. A sinistra per Affazio. Si guarda un po' intorno. Decide ancora di tornare indietro. Molto indietro per Farnese. Di Petrantonio. Larga per Leonzi. Viene a prendere subito. Gentile. Leonzi va via. Ha ancora energia da spendere. Il numero 7 del Pontevamano. Che poi si appoggia. A Polisena. Qui negli occhi. Ancora Polisena. Duella poi Musca. viene triplicato. L'attaccante numero 9. Ancora gentile. Polisena. con la forza di volontà in qualche modo. Pontevamano che continua a crederci. Passano i minuti. La Torreza è sempre più vicina. La seconda vittoria di fila. messa laterale per la squadra ospite. Con Tini. Leonzi ancora. Davvero esausto. Il numero 7 ha giocato un'ottima partita. Davvero un'ottima partita. Ha giocato dal numero 7. Bup senza alcuna fretta. Foggia per Mosca. Cambio fallo. Pubblico. Sembra essersi leggermente affievolito. Dopo il secondo gol della Torrese. Leonzi ha la battuta del fallo laterale. su un compagno che si fa vedere. Deve ricominciare per Monaco. Ancora Fazio. Sulla sinistra che si sviluppa l'azione del Pontevamano. Buon passaggio di Salvini. Ancora per Fazio. Due etano i due. Ma si frappone gentile. Pelone in fallo laterale. Ancora Pontevamano in attacco. Con Suma in area del Giro. Responda per nessuno. Anzi direttamente per Camaioni. Non ci sono problemi per l'estremo difensore della Torrese. che dunque riprenderà. Con il possesso. Meno di un quarto d'ora più recupero. Alla fine del match. Sempre 2-0 per la Torrese. Gol di Festa e Santiroc. Un gol per tempo da parte dei due attaccanti. Salvini. Fermato da Gentile. Ancora Salvini con il fallo però. Punizione. A favore della Torrese. Tra poco ci sarà un altro cambio per la squadra ospite. Tini. Alla battuta del calcio di punizione. Lunga, agitata. In qualche modo le Onzi. Ma sbaglia la misura del retropassaggio. Concedendo un calcio d'angolo gratuito. Alla Torrese. Si sta avvicinando a grandi falcate la seconda vittoria. Davvero una squadra quadrata. Ben messa in campo. E con due attaccanti davvero di livello. Coratini alla battuta del calcio d'angolo. Molto lungo per di Federico che un'altra volta cerca di colpire di testa. Riparte Monaco. Verticalizzazione. Ma Ragozzo ne ho entrato. Ci mette una pezza concedendo la rimessa laterale al pantomano 79. Pallone ripa a destra e a sinistra. E forse adesso deve esserci l'occasione di fare il cambio. Esce Santi Rocco. E al suo posto entra Gardini. Il secondo cambio per Cristofari. Dopo l'ingresso di Ragozzo. Posto di Sec. Ed un vento in campo e le classe 2001 Gardini. La gittata. Direttamente da fallo laterale. Cercare di Federico. Vista a sinistra dove c'è Mosca. Si rinnova il duello con Leonze. Riesce a ricominciare. Dambup. Ancora per Tini. Gran partita. La parte del capitano della Torrese. Che poi lancia lungo. Ma è errato. Il passaggio per Di Nicola. Buona l'idea. Meno l'esecuzione. Per parte del numero 4. Maglia rossa. Non c'è lungo ma è la terra di nessuno. Anche l'inferiorità numerica certo non aiuta. La rimonta del Ponte Mamano. Soprattutto il tempo. Visto che mancano ormai 600 secondi più il recupero. Viene fischiato un fallo. Una trattenuta nei confronti di Nicola. Il pubblico ormai non gradisce. Se l'ha capito. Ancora Di Lallo. Si incaricherà della battuta. Il calcio di punizione. Lancio lungo. Lancio lunghissimo. Per Polisena che calcia dalla lunghissima distanza. Il pallone che termina al lato di Molta. Ha cercato la conclusione della domenica per far tornare in partita la sua squadra. Troppo buona idea ma pallone che è uscito di molto. Senza problemi per il Camaioni. Che rindirizza subito il pallone verso Ragozzo. Tini. Testa alta. Ci sono ampi spazi adesso per la Torrese. Di Lallo. Poggio di qua. Per Bup. Leonzi. Mosca che torna verso il centro del campo. Serve ancora Tini. Il metronomo. La bilancia di questa squadra. Ancora Ragozzo. Di Lallo. Ragozzo. Lunga gittata. Polisena in qualche modo cerca di contrastarlo. Concedendo la rimessa. Che viene battuta da Di Nicola. Ancora Fazio. Tini. Gentile. Solo cambi effettuato da Mr. Cristofari. Anzi due cambi. Uno solo quello di Piccioni. Che ha inserito Suma per Cimini. Per avere più peso e più centimetri. Suma ha avuto l'occasione. Dopo un'ora di gioco con il palo. Colpito da ottima posizione. Quella è stata l'unica vera occasione creata. Forse dopo quella di Leonzi. Dalle Pontevamano. Nel secondo tempo. Successo davvero di meno. Rittimi che si sono abbassati. Il secondo gol della Torrese. Sembra aver chiuso definitivamente i giochi. C'è un altro cambio intanto per la Torrese. Il terzo di questa partita. Cambio. Sto guardando la fregna da mamma. Sto guardando. Un cambio per parte. Andremo. numero 15 da Andrea. Posto di Salvini. è stato rimandato. Cambio della Torrese. Tini. Di due cambi anche per Pontevamano. Bup. Si rifugia. Anzi no. Cerca ancora Tini. E sta in proiezione offensiva da Torrese. Viene contrastato il lancio di Tini. Da Porrini. Dragozzo. Con i tempi giusti. Viene anche commesso fallo ai suoi confronti. Lascia proseguire per la regola del vantaggio. Il direttore di Raga Gentile. Converge verso il centro. Prendendosi il fallo. Ancora Polisena. Davvero incomiabile. Il suo impegno. La sua forza di volontà. Mentre adesso dovrebbe essere giunto il momento del cambio. Sto a riuscire. Il numero 10. Non possiamo vedere dalla lavagnetta. Vediamo se ci sarà prima o dopo il calcio di punizione. C'è Gentile. Applausi da parte del pubblico. Il cambio anche nel Ponte Romano. Si fa che entrare Di Stefano. Al posto di Polisena. Calcio di punizione. La posizione è molto interessante per la Torrese. Con Di Lallo. Si incaricherà della battuta. Dei 22-23 metri. Non di più. Vira con il destro. Tre uomini in barriera. Calcia di Lallo. Pallone che termina alto ma di poco. Buon tentativo da parte del difensore centrale della Torrese. Che chiude anche in attacco questa partita. Cerca di uscire adesso la costruzione dal basso. Di Pietrantonio. Mosca di testa. Porrini. Leonzi chiuso. Ancora Porrini. Esce bene il Ponte Romano. Cambio di gioco. Cercare Fazio. Ancora il Ponte Romano. Con D'Andrea. Converge verso in centro. Ancora D'Andrea. Capisce tutto di Lallo. Che fa ripartire ancora la Torrese. Con Di Federico. Rincorso da D'Andrea. Appena entrato è più fresco. Poggio per Gardini. Chiuso da Di Pietrantonio. Ancora Gardini. Linea di fondo. E guadagni il massimo. Il calcio d'angolo. In precedenza c'è stato un cambio da parte della Torrese. Uscito Gentile. Ed è entrato Selmanai. Lassa è il 2002. Poco meno di 5 minuti. Alla conclusione del match. Più recupero. Sfida che ha detto quasi tutto. Con la Torrese in vantaggio. Di due gol. E di un uomo. Ancora calcio d'angolo. Allontana in qualche modo la retroguardia del Ponte Pomano. Resta in proiezione offensiva. La squadra di Mister Cristofari. Caricarsi della battuta di Nicola. Cercare ancora il colpo di testa di Festa di Federico. In qualche modo riesce ad anticipare il diretto avversario a calciare verso la porta. Viene ribattuto il suo tentativo. Ancora Tini. Allarga a destra dove c'è Di Nicola. Entro passaggio per Di Lallo. Bup. Tini. Arriva su ma molto aggressivo ma regolare. Ancora Cambi. Esce Di Federico. E al suo posto Circelli. che scaramuccia in campo Leon sembra la battuta del fallo laterale attenzione che c'è stato un contatto tra il numero 16 di Stefano che ha colpito al volto il neo entrato Circelli attenzione, vibranti proteste da parte del pubblico da parte della Torrese c'è stata una gomitata c'è stata una gomitata da parte di Circelli che è una gomitata da parte di Stefano che ha palla lontana ha colpito il numero 18 della Torrese Circelli match che si era incattivito abbiamo detto negli ultimi minuti con qualche scaramuccia da parte dell'attaccante della Torrese in questo caso è stato il neo entrato di Stefano che tra l'altro ha fatto il cingresso in campo 3-4 minuti fa mentre Circelli è entrato adesso davvero differente distanze notevole tra due giocatori ancora a terra Circelli ha subito una gomitata al costato davvero brutte scene questo finale visto che il risultato non è più non è più in dubbio la Torrese ha chiuso la partita dopo la rete del 2-0 e dopo l'espulsione praticamente non c'è stata più partita con nessuna occasione da segnalare da una parte e dall'altra che sta ancora a terra Circelli che fa fatica a respirare viene invitato ad alzare le gambe l'arbitro non ha visto nulla quindi non è stato emesso nessun provvedimento in confronti dell'attaccante del Ponte Romano ci sarà un ampio recupero in questo secondo tempo siamo al 45esimo quindi tra poco dovrebbe arrivare la segnalazione si rialza Circelli che però la botta l'ha sentita e adesso l'arbitro deve essere bravo a tenere ferma è decisa questa partita almeno nel finale perché si è creato un bel precedente questo dove doveva gestire magari anche con l'utilizzo di alcuni cartellini lo vedremo a chi verrà che si udite perché al momento era il Ponte Romano in possesso palla è il Ponte Romano che adesso restituisce palla alla Torrese che effettivamente aveva il possesso palla prima del contatto tra i due giocatori Camaioni in possesso palla si riprende a giocare con Circelli che è pronto a tornare in campo e ha davvero sentito la botta perché la gomitata c'è stata c'è stato il contatto del giocatore che entra in questo momento Circelli ci prova con il destro intanto se il Manae dalla lunghissima distanza non crea grossi problemi a Farnese Leonzi corre per Di Petri Antonio ormai si aspetta solo il fischio finale che si è sempre ancora lontano visto che abbiamo ancora che entrare nel recupero Porrini regolare Festa lo ferma concedendo solo fallo laterale al Ponte Romano che quantomeno per la gloria sta provando ad attaccare contatto tra Ragozzo e Di Stefano ancora fallo laterale cerca quanto meno di accorciare le distanze squadra di casa se ancora fallo di di Stefano Suma chiuso da due uomini cerca di rifugiarsi in un compagno che trova saggio per Porrini che si ristregge molto bene ancora pallone per D'Andrea particei sinistro dell'area ancora Porrini non esce da lì però il Ponte Romano se il Manae recupera molto bene il pallone numero 17 poi però l'ultimo tocco è il suo e si riprenderà con l'ennesima rimessa laterale da quella zona per i padroni di casa Andrea troppo lento Fazio lunga agitata la ricerca di Di Stefano ancora a Ragozzo a mettere in fallo laterale come è questo il copione tattico degli ultimi minuti Ponte Romano che quantomeno prova ad organizzare un attacco degno di questo nome per dare un senso al finale di partita molto complicato è un match tutto sommato complicato per gli ospiti per i padroni di casa soprattutto nel secondo tempo si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della Torrese siamo nel recupero Torrese che dunque sale a quota 6 in classifica inizio di campionato perfetto da parte della squadra di Cristofari con 6 punti 4 gol fatti uno solo subito nella prima giornata contro il Casalbordino mentre il Ponte Romano un po' tutto al contrario 5 gol subiti 0 gol fatti forse il problema sta nell'attacco di Lallo manovra Tini numero 4 gestisce per Gardini velo da parte proprio di Circelli che si appoggia a Mosca ancora Tini raddoppiato Mosca di prima intenzione ottima giocata per Sesta che sulla fascia sinistra va via poi converge verso il centro concede il calcio d'angolo Basilico chiude in fase offensiva squadra ospite puntini scambia con Festa calcio d'angolo corto coratini coratini raddoppiato scambia ancora con Festa che va verso il centro entra in area con la suola ancora in qualche modo di Lallo di Lallo cerca l'apertura per Ragozzo buona idea ma è troppo lungo il pallone Fazio singalto singalto da parte l'angelozzi con questo successo dunque il secondo consecutivo la torrese sale a punteggio pieno in testa alla classifica mentre per il Pontevomano seconda sconfitta consecutiva dopo il 3 a 0 di Cupello ci sarà da riflettere su questa partita per adesso è tutto un saluto da Alessio Evangelista